Sono il dottor Giuseppe Aronna, medico dentista, perfezionato in parodontologia all'Università di Göteborg in Svezia e ho partecipato a un programma di continuing education all'Università di Harvard a Boston, sempre in parodontologia e in impianti. Da oltre 25 anni mi occupo di riabilitazioni implantoprotestiche, cioè dei denti supportati da impianti. Oggi ti spiegherò in questo breve video quali sono le conseguenze della perdita dei denti e di questo stato che continua nel tempo. Occupandomi principalmente di implantologia incontro molte persone alla visita che sanno il loro problema, ma lo rinviano per motivi diversi o per questioni economiche o per paura o per sbagliati motivi. In questo caso non fanno altro che procrastinare una situazione che può determinare un peggioramento delle loro condizioni. Essendo situazioni che saranno uguali alle tue, dirò che solo se insieme allo specialista implantologo prenderà la decisione di iniziare proprio in quel giorno il percorso terapeutico. Diciamo che la prima conseguenza della perdita dei denti è che l'osso continua a riassorbirsi, perdendo così la quantità e la qualità di osso che potrebbe essere utile per il posizionamento ideale di un impianto. E quindi in questo caso occorrerà utilizzare delle tecniche di rigenerazione dell'osso. In questo caso il trattamento sarà più lungo e anche più costoso. Un'altra ipotesi è la possibilità di eseguire un carico immediato, cioè la possibilità, se bisogna le condizioni di osso, di inserire l'impianto dopo l'estrazione del dente e di caricarlo, di mettere subito la corona, per cui il paziente dopo l'intervento esce con i denti. E questa è una delle soluzioni che sono più aspicabili, soprattutto quando si decide subito di porre rimedio alla problematica dentaria, quindi implantare. Un altro caso, se non è possibile il carico immediato o dilazionato, è quello di curare la zona in cui si è estratto il dente, perché vi è infezione o infiammazione, con una tecnica di preservazione dell'osso e di rigenerazione per guidare la guarigione e consentire poi in un secondo momento di applicare gli impianti nella giusta posizione e nella corretta pianificazione protesica. Se la tua situazione continua ad andare avanti, non trascurarla, perché così non la risolverai. La fila di un bravo implantologo e insieme troverete la soluzione migliore. Spero che questo messaggio ti sia d'aiuto per trovare la forza per risolvere i tuoi problemi. Un caro saluto dal tuo implantologo Giuseppe Aronna di Lugano. Grazie. Grazie.